L'Imprimatur, il Movimento 5 Stelle ha un candidato a Parva? Assolutamente sì, hanno fatto un ottimo lavoro, un percorso lineare, hanno presentato una lista, l'unica che è stata consegnata allo staff, quindi mi ha letto di polemiche ma non c'era nulla di reale, quindi non c'è mai stata la possibilità di avere un candidato diverso da Daniele che già ringraziamo per l'impegno. Avete deciso di puntare su Parma, città che ha visto il primo candidato dell'importante comune italiano sindaco e ha visto anche la prima grande rottura. Sì, non è che abbiamo deciso di puntare su Parma, abbiamo deciso, grazie a questi ragazzi che stanno facendo questo sacrificio in un luogo per noi difficilissimo perché qui il Movimento è stato ammazzato nella culla, abbiamo deciso, grazie a loro, non è che abbiamo deciso noi, e hanno deciso loro di ripartire e con grande umiltà si riparte sapendo che non ripartiamo da zero, ripartiamo da meno dieci, quindi qui qualsiasi risultato si otterrà, grazie a questi ragazzi, a questo impegno, come Movimento, tutto, dobbiamo solo essere liberi. Grazie.